Consigliera Marcozzi, parliamo del project financing perché avevate chiesto l'intervento dell'ANAC e questo intervento è arrivato perché è stata aperta una procedura di controllo sull'operato della Regione. Sì, ANAC ha aperto una procedura di vigilanza nei confronti dell'ASL di Chieti e nei confronti della Regione in merito e grazie alle nostre segnalazioni. Cioè ANAC ci ha dato ragione quando dicevamo che ricorrere al project financing per la realizzazione di ospedali poteva essere un pericolo per le casse regionali e solo un vantaggio per il privato. ANAC riconosce fondata questa eccezione e apre un procedimento di vigilanza. Tra l'altro ANAC ci dà ragione anche su un altro aspetto, cioè sul fatto che noi abbiamo sempre chiesto al presidente D'Alfonso e all'assessore Paolucci di valutare l'opportunità che l'ASL costruisse il nuovo ospedale autonomamente con un appalto autonomo, dunque facendo ricorso ai fondi per l'edilizia sanitaria nazionali ed eventualmente se ce ne fosse stata la necessità ad un prestito presso Cassa Depositi e Prestiti. Cosa che non è mai stata ascoltata dal presidente D'Alfonso. Oggi ANAC ci dice, con la missiva che ci è arrivata venerdì, che avevamo ragione e che questi aspetti debbono essere valutati con un maggiore approfondimento. Voi nel merito restate contrari al project financing? Assolutamente sì, io ci tengo a ribadirlo. Il nostro non è mai stato un no ad un nuovo ospedale o una ristrutturazione dell'esistente, il nostro è un no alla procedura di finanza che grava eccessivamente sui bilanci delle ASL della regione, quindi sui soldi dei cittadini abruzzesi e avvantaggia solo il privato.